Bisogna invertire la rotta, approfittare del fatto che adesso abbiamo i mezzi per poterlo fare, se non lo facciamo siamo finiti. Così l'ex presidente del consiglio, Romano Prodi, in un'intervista al TG2000, il telegiornale di TV2000, a proposito dell'accordo sul Recovery Fund. Per Prodi il problema è andare avanti, ovvero approfittare di queste grosse decisioni. Ci sono delle risorse, o noi le utilizziamo bene oppure siamo definitivamente fuori dal giro, perché in questi ultimi dieci anni abbiamo marciato a marcia indietro e non a marcia avanti. È un cambiamento totale perché l'euro era stato lasciato solo e non c'era alcuna solidarietà che avvicinasse i paesi a una politica comune. Qui è cominciata una politica comune, ed è un passaggio molto importante, ha sottolineato Prodi. Quanto alla Brexit, l'ex premier ha osservato, se la Gran Bretagna fosse ancora dentro, mai vi sarebbe stata questa solidarietà. Intendiamoci, l'uscita della Gran Bretagna non è una bella cosa, ma sotto l'aspetto di costruire la politica comune è stata decisiva.